Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Celebreremo il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, così la direttrice artistica Sabrina Perucca, presentando la trentesima edizione di Romics, che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile presso Fiera Roma. Fittissimo il programma della Kermess, con grandi eventi e celebrazioni speciali e oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico. Grande attesa anche per l'assegnazione dei Romics d'oro e per i festeggiamenti per i 100 anni della Warner Bros. Tra gli ospiti annunciati, Vincenzo Mollica che torna al Romics per festeggiare i 40 anni dello speciale TV letteratura disegnata. Tra gli eventi speciali del Romics spicca il ritorno il primo aprile del gran galà del doppiaggio, con l'assegnazione tra gli altri del premio alla carriera maschile a Pietro Biondi e femminile ad Aurora Cancianne, il premio Andrea Quartana andrà a Federico Viola, il premio Ferruccio Amendola a Francesco Prando, il premio Vittorio De Angelis a Lucio Saccone, presentano il Romics gran galà del doppiaggio per la Liberatori e Stefano Brusa. Domenica 2 aprile alla Romics altri due appuntamenti dedicati al doppiaggio. Alessandro Quarta, la voce ufficiale di Topolino, si racconterà per il centenario della Disney Company. I doppiatori storici di Oli e Benji, Fabrizio Guidale e Giorgio Borghetti, festeggeranno il quarantesimo compleanno dei calciatori più famosi dell'animazione. Claudio Santamaria sarà la voce italiana di Super Mario, doppiato da Chris Pratt nella versione originale del nuovo adattamento animato per il cinema del celebre videogioco. Super Mario Bros. Il Film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 aprile. Radio Cecchetto è la nuova web radio lanciata dal pioniere della radiofonia italiana, produttore musicale Talent Scout. Nella prima fase si ascolteranno i programmi dei primi DJ dagli anni 70 in poi, ha detto Claudio Cecchetto, presentando il suo progetto. Poi, ha spiegato, daremo spazio a chi vorrà condurre un programma esprimendo la propria passione. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su voci.fmradio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS